E' una trentina Si chiamano, comunque sono cento di primi da lì più al mese, gira a gira E' più scusso che scusso Ci scocano Ma mangi bene? Non credo che non ci prenda Ti danno la paracca, ti danno il primo, ti danno il secondo O la frutta, oppure ti danno il... Chi è se lo mangiare? Sono il ristorante che vanno a mangiare sono 50 mila vie Ma magari mangierai... Siamo andati noi con i bambini Ma magari se c'è caro, ti mettono un pesce E poi sono un po' un'istante perché c'hanno quelli della regione Ma non c'è... Si fai la sera tu? Dove andiamo noi? Perché noi ci siamo affiliati a... Sono un minimo c'è la sera Giù! E noi andiamo giù Questo è il momento dell'accoglimento Grazie 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 per la visione!